Ordi 3 La lama La lama di Cassano La lama di Cassano Finale nuusissima fino ad adesso Se vuoi c'è la forchetta Scambio della miseria In questo momento Il derby Cosa ti aspetti? Il derby Contro Bologna Il derby delle Alpi No, è vero, non è il derby Alpi contro Appennini Qual è la previsione? Il derby over No, no, della finale Chi vince secondo te Dipendiamo la rega Dai Vai, vai Torna, torna, torna Torna, 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 torna Torna Spari Bravo, Lander 23 Bravo Dario Comunque, bravo Tor Dai rega No, ma già Se apri E' già pronta E' già pronta Vai Kino Vai Kino Sì Sì Trovato, eh Vai Kino Dai Dai Vai Kino Ma quello lì Mi scomigli Prego Zero per chi? Chi è che vince? Bologna 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 Io tosce il branca Iso Dai, difesa Dipesa Dipesa Vai 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 Bologna Bologna Uccisi Chi è riuscito a ammazzare Alcani Sì Non Ma questo è niente vecchio chiediamo a Mario com'era il vento di Copenaghen 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 a Mario conisonlo E' un'ora di partito. E' 53, half time. E' un suono di tromba al 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 time. e che, no e randa stesse, l'ha ripreso va bene, dai va bene, dai e che dovevo fare e che dovevo fare non passa, non passa, non passa avanti c'è lungo, c'è lungo vai Bea vai Bea è bello che si cuccia il ragazzo che va in mezzo alle tende a raccogliere il disco vai Bea sinistra 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 eccolo, sinistra Mario sei in quadratura mantieni l'anonimato bravo, fai un passo indietro su chi va 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 vai policiali in mezzo a due non basta niente non basta niente su chi va io volevo mettere cap sempre però a fine tu 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 un che adesso la fine invece la fine mentre la fine Pixar la un mappery non vado a 5 minuti di no No, non sai, è di quanto. Truyap! Truyap! No! No! Dai, difesa! Dai, difesa! Dai, difesa! Destra! Destra! Tutti verso! 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 Lungo! Andre! No! Bravo! No! Prendilo! Vai, Niccoli! Vai, dipenda! Vai, dipenda! Vai, dipenda! Vai, dipenda! Vai, vai, vai! Distra! Noi! Verso! 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 Non c'è! Steglilo! Ah, lì è normale, non ce l'ho pensato, è finito. Altrimenti tutto open senza fibro, come radio radicale, anche se non lo fanno più. Bravo! Questo è Ultimate Champagne. Altrimenti, terzo, 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 terzo! Luca Luca! Ciao! Halftime! Quattro spettano? è stata registrata partita molto combattuta pollicioni, niente ti batterò anche te ok sono bravo 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 è baranca grazie grazie stesso punteggio dai vittoria ancora l'uno com'è? no no io lo lascio sempre grazie 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 anche il rosso occhio grazie 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 a tutti E finalmente un po' di disgrazie anche su di loro Grazie a tutti Grazie a tutti I personaggi importanti in questo torneo Grazie a tutti 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 5 minuti Grazie a tutti Grazie a tutti Ha fatto così Oh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti